ciao a tutti buongiorno e buona domenica ora non so quando vedrete questo video non sono riuscito a registrare un paio di piccole catture a spinning non sono solito fare troppe premesse in questi video perché comunque non sono solito parlare molto all'interno dei video a spinning perché tendo a concentrarmi a dedicarmi il più possibile alla pesca quindi qui di seguito vi lascerò direttamente le due clip dove sono riuscito a catturare questi due pesci ora possiamo cominciare e buona visione mmm a few moments later a oh c'è c'è preso carino anche wow no no non sulle rocce e vai l'ho detto io che l'avevo visto un siluro divertentissimo con ste canne raga ha la faccia del siluretto andiamo a fare il momento storia ho preso eh però carino è raga eh bel pescione bel pescione godiamocelo cavolo che si slami è praticamente impossibile a par gigante da qua così non si vede bene fermo fermo resta la faccia e anche il pesa pesciotto a spinning con il j13 metro e trenta circa rilasciamo subito non si vede bene vai via qui dai qui qui Grazie a tutti. C'è, 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 e vai, minuscolo, che mini pesce, ma siluretti pazzi, sono pazzi questi siluri, cioè guardate che piccolo raga, rendetevi conto. Grazie a tutti.